Spano, vedete il buio, Giuseppe Saleto 86, Giuseppe Saleto 86, parca la roba. Regolpiamo dalla palazzina, la B2. C'è un ricaduto, uno appena cucito, al momento abbiamo il FG. E per un ricevere, andiamo a noi. 82, mi vuol dire, no? Confermo, 86, 86, palazzina B2, parca la roba. E per un ricevere, andiamo a noi. 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 Grazie.